vista la parte la è capogallo diciamo la punta di capogallo sferracavallo guardate che bella giornata che c'è oggi mare una tavola come diremo noi l'isolotto e la parte di capace e isola guardate qua invece montagne spiaggia e mare che bellezza siamo ad isola come potete vedere appunto l'isolotto là in fondo si vede oggi giornata bellissima 15 gradi si sta veramente bene questa giornata di mare assolutamente ci aiuta molto a me palermitani a cui piace molto il sole e il mare che bellezza e buongiorno amici di palermo allo specchio buongiorno siamo oggi qua a capace guardate che bellezza oggi è 15 gradi mare bellissimo l'isolotto che si vede in fondo vediamo se lo riusciamo a inquadrare l'isolotto che si vede in fondo e questo è quello che è capace o isola guardate che bellezza 15 gradi ripeto giornata bellissima ho visto qualcuno che si faceva pure il bagno wow come si suol dire la pace dei sensi a